Paolo Casizza oggi si presenta il suo volume dal titolo Il Lombruco e altre storie fiabe per adulti col cuore di bimbo ecco come è nata questa sua idea e che cosa troviamo all'interno del libro contiene dieci storielle che ho scritto sull'onda della grande gioia di diventare padre nel 1995 la fonte di ispirazione delle dieci storie sono le persone i fatti e gli avvenimenti che sono stati importanti nella mia vita come i miei genitori la pasticceria pizzeria pietro dove ho trascorso tutta la mia infanzia e adolescenza prendendo degli spunti anche diretti di quell'esperienza per la fiaba lo sciopero dei pasticcini più non viene raccontata soltanto una storia ma più storie ci può dire qualcosa di più tre altre fiabe danno delle risposte ai misteri della storia dell'umanità e cioè come sono nate le lucciole oppure perché gli struzzi nascondono spesso la testa nei buchi del terreno e infine chi ha inventato il sugo al pomodoro vi anticipo solo la risposta di quest'ultima il pomodoro pasquale le dieci favolette hanno una loro morale alla fine un po come le fiabe di esopo che tende a mettere in luce il mondo magico dei bambini sperando che gli adulti si accorgano definitivamente che nel loro petto batte un cuore di bimbo infine questo volume non è in formato cartaceo ma digitale come è possibile acquistarlo questo libro non sarà disponibile in formato cartaceo ma solamente digitale in pdf quindi chi volesse averlo mi chiama al cellulare o su whatsapp io sarò a disposizione per consegnarglielo di persona al costo di 10 euro grazie a tutti grazie a tutti